Iniettava soluzione fisiologica al posto del vaccino indagato un medico di base di Falconara Marittima. Tremendo schianto a Trasani di Urbino, quattro le persone rimaste ferite, tra cui una bambina di un anno e mezzo trasportata al Salesi di Ancona, seconda eleambulanza atterrata per suo papà. Si prostituisce a domicilio, malsa il prezzo e non corrisponde alle foto su web. Il fanese ci ripensa e viene minacciato di morte. Fermati dalla polizia tre rumeni accusati di estorsione e calugna. Dichiaro a un affitto che non paga più per aumentare il reddito di cittadinanza, denunciata una donna di Montelabbate che ora dovrà restituire i soldi all'Inps. La Lega Navale di Fano, preoccupata per il forte aumento del canone demaniale minimo, il presidente Bocchini denuncia il costo è insostenibile e rischiamo di chiudere le quattro concessioni. Mezza Italia verso il giallo, domani il verdetto anche per le Marche. Dai dati settimanali dovrebbe ottenere il pass per la fascia migliore. Intanto il governo conferma il coprifuoco alle 22 e alle scuole superiori si torna al 70%. Il Covid cambia il mercato immobiliare, in aumento le richieste per le case con balconi e giardini, rivalutata l'importanza degli spazi all'aperto. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, bentornata a questa nuova edizione del telegiornale. Lo avete sentito dai titoli, un medico di base di Falconara Marittima è indagato perché avrebbe somministrato una soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-covid. Almeno 30 gli ignari pazienti che pensavano di essere stati vaccinati. Filippo Pucci. Erano convinti di aver ricevuto il vaccino Pfizer quando invece gli era stata somministrata una semplice soluzione fisiologica. Potrebbero essere almeno 30 i casi di pazienti tratti in inganno dal loro medico di base a Falconara Marittima. Sul caso ora indaga la squadra mobile di Ancona, coordinata dalla procura per le accuse di falso ideologico e lesioni commessi da pubblico ufficiale. Perquisito lo studio del medico per acquisire la documentazione. Tre pazienti si erano insospettiti dall'esitazione del camice bianco al rilascio delle attestazioni di vaccinazione da una serie di inesattezze sul tipo di vaccino inoculato e sulle date del richiamo. In base ai documenti e alle testimonianze sono diversi i pazienti coinvolti e di varie fasce d'età. Alcuni di loro sono stati già identificati dagli inquirenti che sospettano però la presenza di altre persone ignare di aver ricevuto una vaccinazione fittizia. La squadra mobile, diretta dal vicequestore Carlo Pinto, sta cercando di chiarire anche come e quando siano stati utilizzati dal medico i veri vaccini in dotazione. Secondo fonti investigative l'uomo avrebbe detto agli inquirenti di averlo fatto per accontentare i propri pazienti che lo pressavano per essere vaccinati e di non ricordare però a quali di loro avesse somministrato il vero vaccino anti-covid. Grave incidente stradale questa mattina intorno a mezzogiorno lungo la provinciale 423 che collega Pesaro a Urbino nella frazione di Trasanni. Per causa ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente, una guidata da una donna e l'altra con a bordo una famiglia di tre persone. Tutti e quattro sono rimasti feriti tra cui una bambina di un anno e mezzo che è stata trasportata dall'eliambulanza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Un secondo elicottero è stato poi necessario per suo papà trasportato al Torrette. Le due donne invece sono state portate all'ospedale di Urbino. Nel luogo dello schianto sono intervenuti il 118, i carabinieri, il commissariato di pubblica sicurezza e i vigili del fuoco di Pesaro e di Urbino che hanno estratto i feriti dalle lamiere per affidarli alle cure dei sanitari. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso. Si prostituisce a domicilio ma alza il prezzo e non corrisponde alle foto su web. Il fanese ci ripensa ma viene minacciato di morte. Operazione antiprostituzione della polizia di Fano che dopo un inseguimento sulla 14 ha fermato due romeni per tentata estorsione aggravata. La Squillo invece è accusata anche di calunnia. Le prestazioni di meretricio a domicilio prenotate sulle piattaforme online sono diventate la nuova frontiera del sesso ma c'è il rischio di finire nei guai così come è successo a un fanese residente a Metaurilia che ha contattato una donna sul web. Dopo gli accordi raggiunti al telefono lunedì scorso lei è partita dalla Romagna violando le norme anticontagio sugli spostamenti e si è presentata a casa dell'uomo. Ma una volta arrivata lì ha aumentato l'importo della prestazione una scelta che non sarebbe piaciuta al fanese non soddisfatto neanche per l'aspetto fisico della rumena che non corrispondeva alle foto pubblicizzate sul sito online. A quel punto ha deciso di mandare tutto all'aria e di farla uscire di casa ed è lì che la ragazza Squillo ha iniziato a minacciarlo dicendo che lo avrebbe denunciato per aggressione non avvenuta e che lo avrebbe fatto trattare dai suoi uomini. Poco dopo infatti due rumeni si sono presentati sotto la sua abitazione hanno iniziato a minacciarlo di morte chiedendo all'uomo di pagare almeno 100 euro a titolo di risarcimento del danno. A quel punto preoccupato il fanese ha detto che avrebbe chiamato la polizia e così ha fatto. Ma nel frattempo i due si sono dileguati a bordo di un'auto con targa francese. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fano diretti da Stefano Seretti che prima hanno ricostruito i fatti e poi si sono messe alla ricerca dei malviventi. La donna è stata rintracciata poco dopo dalla volante, poi è stata la volta dei due uomini intercettati nelle vicinanze del casello autostradale. I poliziotti li hanno subito intimato l'alt, ma i rumeni sono scappati ed è partito un inseguimento a velocità sostenuta lungo la 14 fino all'altezza di Gabice dove gli agenti li hanno bloccati e sottoposti a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di tentata estorsione aggravata e la donna anche per calugna. Portati nel carcere di Villa Fastigi oggi il giudice ha convalidato il fermo. E ancora cronaca, percepiva un reddito di cittadinanza più alto rispetto a quello che gli spettava. Una 48enne di Monte Labbate è stata smascherata dalla Guardia di Finanza. Una 48enne di Monte Labbate è stata denunciata dalla compagnia della Guardia di Finanza di Pesaro in quanto aveva ricevuto per 10 mesi circa 300 euro in più di reddito di cittadinanza, ma nella dichiarazione sostitutiva unica, in base a quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle svolte in collaborazione con l'Inps, aveva comunicato in modo non veritiero di pagare un canone di locazione di 7.200 euro annui, il cui contratto era in realtà già risolto. La donna infatti aveva dichiarato di essere residente in qualità di locatario presso un immobile situato a Pesaro e di versare al proprietario dell'immobile un canone annuo pari a 7.200 euro. In realtà le indagini hanno evidenziato una risoluzione anticipata del contratto di locazione certificata dallo stesso locatore, una signora di Pesaro, con l'invio di una richiesta telematica all'Agenzia delle Entrate. Questo dato non veritiero ha inficiato il valore complessivo dell'Ise, consentendo alla donna di percepire indebitamente da aprile 2019 a gennaio 2020 una parte di reddito di cittadinanza che non le spettava pari a circa 300 euro mensili per un importo complessivo di circa 3.000 euro. La 48enne è stata segnalata sia all'autorità giudiziaria per aver indebitamente percepito erogazioni a danno dello Stato che all'Inps è competente per il recupero della parte della somma complessivamente incassata non dovuta. E adesso la pagina della sanità e bilancio regionale dei decessi legati al coronavirus si aggrava di 11 vittime. Nelle ultime 24 ore sono morte anche due persone residenti nella provincia pesarese. Si tratta di un'anziana di 98 anni di Pian di Meletto e di un uomo di 87 anni di Pesaro. Invece i nuovi positivi sono 272. La provincia più colpita è quella di Pesaro Urbino con 85 casi seguita da quella di Macerata con 66. I ricoveri negli ospedali calano ancora. Sono 13 in totale pazienti in meno rispetto a ieri. I degenti in terapia intensiva scendono a 72 mentre quelli in semi intensiva a 170. L'Italia si prepara a ripartire. Da lunedì riaprono i ristoranti ma soltanto all'aperto. Ieri sera poi la scelta definitiva del governo per il rientro in classe alle scuole superiori al 70%. Via libera alle riaperture dei ristoranti in zona gialla sia a pranzo che a cena. Da lunedì riaprono anche i cinema, i teatri e le sale da concerto ma con la capienza consentita al 50%. Ok agli sport di squadra come il calcio e la palavolo ma con il divieto al momento di utilizzare gli spogliatoi, quindi doccia a casa. Inoltre sempre dal 26 aprile si tornerà sui banchi di scuola. Per le zone gialle e arancioni la didattica in presenza deve essere garantita dal meno 70% e fino al 100% della popolazione studentesca. Si tratta di percentuali definitive contenute nel decreto riaperture ma rese notte soltanto nella tarda serata di ieri. Infatti le Marchi avevano giusto definito il piano per il rientro al 60%, ora dunque quasi tutto da rifare, compreso il nodo trasporti. Una decisione che ha portato la prefettura di Pesor Urbino a convocare una riunione d'urgenza con Adrabus e gli altri attori interessati tra i quali l'ufficio scolastico della provincia. Il decreto inoltre stabilisce la riapertura pubblico delle piscine dal 15 maggio ma soltanto negli impianti all'aperto. Lo stesso giorno potranno riaprire gli stabilimenti balneari, il primo giugno invece si torna in palestra e i ristoranti in zona gialla potranno ricevere i clienti anche al chiuso con consumazione al tavolo dalle 5 alle 18. Bisognerà attendere il primo luglio per convegni, fiere e congressi così come per accedere alle terme e ai parchi divertimento. Poi per quanto riguarda gli spostamenti saranno liberi tra le regioni in fascia gialla, basterà l'autocertificazione per muoversi soltanto per motivi di lavoro, salute e necessità tra regioni rosse e arancioni. Sarà necessaria la certificazione verde invece per spostarsi per turismo. Il pass per i vaccinati vale sei mesi ed è rilasciato dalle strutture sanitarie. Il coprifuoco infine è confermato alle 22. Nel provvedimento non viene fissata una data di scadenza ma è stato chiarito che le misure saranno riesaminate in base all'andamento della pandemia. Le marche stabilmente al top per le vaccinazioni sono al secondo posto tra le regioni italiane per dosi somministrate sul totale di quelle ricevute e pronte a passare dalle 12.000 alle 15.000 somministrazioni al giorno non appena ci sarà la disponibilità dei vaccini. Il lavoro dell'assessore del personale della sanità hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega conquista la piazza d'onore italiana con buona pace di esponenti del PD che ci accusano di inefficienza. Al chiacchiericcio rispondiamo con i numeri hanno proseguito consapevoli che se il loro governo avesse impiegato il tempo a procurare vaccini anziché a rincorrere banchi a rotelle oggi non staremmo a parlare di coprifuoco e di riaperture con il contagocce. Il paradosso ha aggiunto l'assessore Saltamartini è che quella macchina al massimo della sua potenza ci costringono a rallentare per mancanza di carburante e programmare essenziale per raggiungere l'obiettivo dei 900.000 marchigiani vaccinati con la prima dose entro il mese di luglio. Attendiamo che le forniture di vaccini si possano sbloccare. La pandemia ha influito anche sul mercato immobiliare in aumento la richiesta per gli affitti ma anche per le case con spazi all'aperto. Il servizio di Angelica Pansieri. La pandemia da Covid-19 ha cambiato anche il mercato immobiliare. In tanti hanno rivalutato il valore dello spazio e sempre più persone richiedono case con giardino o grandi balconi. Un settore, quello del mondo immobiliare, è tutt'altro che in sofferenza. Gli affitti a Pesaro nell'ultimo anno sono andati a ruba e la domanda ha superato l'offerta. Bene anche le vendite non solo nella zona mare in centro storico ma anche nelle zone più periferiche della città. Con la pandemia le persone si sono anche rese conto di qual è il valore della casa perché le persone si sono trovate a vivere molto di più la casa, le mura domestiche e quindi se prima si usava quasi la casa per dormire e si stava tutto il giorno fuori adesso c'è di nuovo un grande valore per l'immobile, per la prima casa. Quindi sia il discorso vendite che il discorso affitto va sicuramente benissimo, le richieste sono tante e anche nelle vendite abbiamo visto anche proprio questo cambio, anche la ricerca della casa anche leggermente più fuori dal centro ma con un po' di spazio esterno, proprio cercare la tranquillità per potersela godere di più. Questa è una priorità che è venuta fuori assolutamente con la pandemia. Il mercato immobiliare in realtà non è mai cambiato e non si è fermato neanche durante il periodo della pandemia. Nel mercato degli investimenti sta scendendo, quindi la borsa e gli investimenti a lungo periodo non danno molti risultati e quindi i clienti si riversano sempre di più sul mercato immobiliare. Teniamo conto che la maggior parte delle vendite e degli interessamenti sono nell'ordine dei 150 mila euro. In ogni caso le previsioni sono ottimistiche. Tutti pretendono con questa storia di stare dentro casa, di avere uno sfogo o un balcone praticabile, non il solito balcone piccolo o un giardino. È vero che in questo momento gli affitti a Pesaro stanno andando a ruba, cioè non ce ne sono più di fatto? No, non ce ne sono più perché quei pochi che ci sono li fanno direttamente, perciò non passano nelle agenzie. Però non ci sono appartamenti da affittare, a meno che ci sono, ma quelli che a canone concordato vengono oltre 700 euro al mese ed è difficile affittare. Il canone demaniale minimo è passato da 400 euro a quasi 3.000 euro. È la denuncia di Rolando Bocchini, presidente della Lega Navale Italiana di Fano, che è preoccupato per il futuro delle quattro concessioni. Il costo diventa insostenibile, ha detto rischiamo di chiudere. Il servizio è stato curato da Letizia Marchionni. Il problema nostro è che ci è arrivato da pagare la concessione demaniale. È preoccupato Rolando Bocchini, presidente della Lega Navale Italiana, sezione di Fano, a fronte del forte aumento del canone demaniale minimo, che dà circa 400 euro a causa del decreto legge dell'agosto 2020, è diventato di 2.500 euro all'anno, a cui si aggiunge anche la tassa regionale del 10%. In questo modo, ha spiegato Bocchini, arriviamo a pagare a causa del provvedimento del governo 2.750 euro per ognuna delle quattro piccole concessioni di cui la Lega Navale Italiana di Fano è in possesso. Noi avevamo già fatto i tesseramenti del 2021, ha continuato il presidente, e non ci siamo potuti nemmeno difendere aggiornando il costo della tessera. Con questi canoni che devo pagare mi trovo abbastanza scoperto. Ora, quest'anno, in un modo o in un altro provvederemo a fare qualcosa. Però mi è stato riferito che l'autorità portuale di Ancona stava già lavorando con una proroga per farci pagare, non solo a noi, ma a tutti gli altri club, associazioni che sono sulle concessioni marittime, la stessa cifra, ad eccezione di una nuova associazione che dovrà pagare 2.500 euro. E a Roma ieri mi era stato riferito dalla presidenza nazionale che avevano inserito un emendamento per poter togliere questo articolo 100, cioè per non farlo pagare. Però al momento è tutto, cioè a noi è arrivato l'F24, il che significa o paghi o paghi. La Lega Navale Italiana è un ente pubblico non economico a base associativa, ha poi affermato Bocchini. Inoltre, per aumentare il costo delle tessere c'è una procedura precisa che prevede vari passaggi per poi andare al voto. Se la maggioranza dei soci è d'accordo ed il costo della tessera aumenta, c'è poi anche il rischio che la gente se ne vada, ritrovandoci così nuovamente non in grado di pagare. Se l'Assemblea dei soci decide di non approvare l'aumento per sopperire a questo aumento che non è poco, è quintuplicato praticamente. E noi che facciamo? Resistiamo un paio d'anni e poi chiudiamo bottega. Abbiamo intenzione di riunirci tutti e poi eventualmente fare una manifestazione di protesta in piazza. Adesso sentiamo tutti gli altri presidenti, chiederemo l'autorizzazione per fare la manifestazione e poi porteremo a conoscenza il problema. E' partita questa mattina dalla Croazia e dovrebbe arrivare sabato a Fano l'unità Transporter 3 che contiene il materiale per la rifioritura e la posa delle scogliere lungo il tratto antistante alla zona di Sassonia, esattamente davanti agli stabilimenti balneari Bagni Carlo e Bagni Gabriele. I lavori inizieranno questo fine settimana e proseguiranno poi fino ai primi giorni di maggio. C'è tempo fino all'11 giugno invece per presentare i progetti e partecipare al bando della Fondazione Cari Fano. A disposizione 50 mila euro per aiutare il terzo settore. Un sostegno ai progetti del terzo settore finanziati con le proprie erogazioni. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano punta ancora sulla solidarietà attraverso un bando crowdfunding dedicato ai settori dell'educazione, della salute, del volontariato e dell'ambiente. Possono partecipare gli enti e le associazioni con sede in questi comuni. L'iniziativa, che è svolta in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato della Regione Marche e con la piattaforma Rete del Dono, premiera i soggetti selezionati, che andranno da un minimo di 5 ad un massimo di 10. Gli obiettivi della Fondazione, ha spiegato il Presidente Giorgio Gragnola, sono quelli di diffondere la cultura del dono, far crescere gli enti del terzo settore e fare in modo che le associazioni si mettano in rete con progetti comuni. Sono progetti che hanno una massima informazione, una massima diffusione e tutto viene tracciato sia da un punto di vista dei finanziamenti sia da un punto di vista dell'utilizzo delle risorse. In questa prima iniziativa di crowdfunding, di raccolta fondi, la Fondazione ha ritenuto di impiegare un importo di 50 mila Euro, oltre a sostenere tutti i costi che questa iniziativa produce. Ci sono due fasi, la prima fase è quella che è partita con la pubblicazione del bando, la cui scadenza è l'11 giugno, dopodiché la Fondazione valuterà i progetti che sono arrivati e dal primo di ottobre fino al 31 dicembre sarà possibile per chiunque vorrà contribuire e partecipare al finanziamento di questi progetti inserirsi nella piattaforma e finanziare l'iniziativa. La Fondazione contribuisce con il raddoppio dei fondi fino ad un massimo di 5 mila Euro o 10 mila Euro a seconda delle iniziative e dei progetti che verranno pubblicati. Una piccola tanica per agevolare la raccolta dell'olio vegetale è quella che riceveranno in regalo gli utenti più virtuosi dei comuni serviti dall'igiene ambientale di Aset S.p.A. e che a partire dal 3 maggio si recheranno nei centri di raccolta differenziata e nei centri ambiente mobile. Il gadget sarà destinato ai titolari della bolletta rifiuti che conferiranno almeno 10 litri di olio durante l'anno. Si tratta sia di quello utilizzato in cucina che di quello che si trova nei contenitori di qualsiasi alimento venduto e conservato sott'olio. A ogni litro conferito il personale apporrà un timbro su una tesserina. A raggiungimento del decimo timbro verrà consegnata la tanichetta grazie alla quale i cittadini sapranno sempre dove e come raccogliere l'olio prima di consegnarlo. Aset inoltre fa sapere che a partire da maggio non verranno più conteggiati gli sconti finora previsti per gli utenti di Fano e Pergola per il conferimento dell'olio e che venivano applicati sulla parte variabile della bolletta. E vi annuncio che lunedì prossimo a Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Vedete in questo cartello tutti i numeri di riferimento. Tra poco invece trasmetteremo uno speciale sui centri estivi per ragazzi e bambini del nostro territorio. Grazie per aver scelto il nostro telegiornale e buona serata a tutti voi. Grazie per aver guardato il nostro canale.